Scatterà domenica 11 marzo la turnazione a Sciacca tra i 20 panificatori disponibili a lavorare la domenica. Questa è la soluzione individuata da amministrazioni e associazioni di categoria a fronte del noto decreto regionale Lobello. Basta con le polemiche e per il rilancio delle termine occorre mettere da parte le appartenenze politiche e l'opinione del consigliere Miglioti per il quale la chiusura tre anni fa delle strutture, il risultato è il fallimento di tutta la politica. Ha suscitato grande commozione e al contempo apprezzione e allarme tra le famiglie la notizia del nuovo caso di meningite che si è verificato a Palermo e che ha stroncato un bambino di appena 14 mesi. Tra 48 ore si vota per le elezioni politiche, urne aperte solo domenica dalle 7 alle 23, c'è l'appello della UIL di Agrigento e nuovi parlamentari nazionali egrigentini che saranno eletti a non dimenticare la provincia. Oggi a Trapani la protesta del Comitato per la salvaguardia dell'aeroporto, sono 800 i posti di lavoro a rischio dopo la decisione di Ryanair di ritirarsi. Sarebbe un danno enorme all'economia turistica, dichiara Federalberghi di Agrigento. L'assessore al turismo Filippo Bellanca torna a lanciare l'iniziativa della Fondazione Carnevale. È fondamentale creare un organismo che si occupi tutto l'anno dell'organizzazione della festa, dichiara il Vice Sindaco. Un cordiale benvenuto, bentrovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con la nostra informazione. Una turnazione tra i 20 panificatori seccensi disponibili a lavorare la domenica. E questa è la soluzione condivisa da amministrazione comunale di Sciacca e associazioni di categoria a fronte dell'ormai noto decreto dell'ex assessore regionale Mariella Lobello che impone il blocco dell'attività di panificazione nelle giornate domenicali e festive. La turnazione a Sciacca scatterà da domenica 11 marzo dopo che sarà emessa apposita ordinanza del Sindaco Francesca Valenti. Ce ne occupiamo in questo servizio. La soluzione individuata è quella della turnazione tra i panificatori seccensi disponibili a lavorare la domenica. Si attende adesso l'ordinanza del Sindaco Francesca Valenti ma l'accordo tra amministrazione e associazioni di categoria è già stato siglato questa mattina nel corso di una riunione presieduta dal Vice Sindaco Filippo Bellanca. Praticamente l'amministrazione darà seguito all'ordinanza municipale che stabilisce che su 20 panificatori che avevano dato l'adesione alla turnazione settimanalmente ci sarà una chiusura di 15 panifici, 5 a rotazione riposano in modo tale da garantire durante il mese l'apertura e il riposo a tutti. Si può dire che questa è la soluzione in fondo che contempla un po' le esigenze di tutti? Sì, questa è la soluzione migliore anche perché il decreto stesso dava la libertà ai sindaci di ascoltare le associazioni di categoria e quindi predisporre la turnazione anche per la vocazione territoriale. Credo che Sciacca sia stato uno dei comuni che ha dato, seppur raffatica, siamo riusciti a trovare un accordo con tutti i panificatori che hanno dato la loro disponibilità. Qual è l'opinione dei panificatori? Che cosa pensano di questa soluzione? I panificatori momentaneamente hanno accettato la turnazione ma è chiaro che siamo e sono soprattutto loro in attesa che questo decreto venga ritirato o quantomeno quindi modificato al meglio. Nel senso che loro preferirebbero avere garantita ancora la possibilità per chi vuole di lavorare la domenica? Sì, il vero problema è l'imposizione della chiusura domenicale. Basterebbe o sarebbe bastato quindi lasciare la discrezionalità ad ognuno di scegliere il giorno di chiusura. Credo che si lavorerà su questo orientamento. Quando comincerà questa turnazione? L'ordinanza inizierà la prossima domenica quindi dall'11 marzo si darà seguito a questa prima turnazione che io consegnerò ai panificatori che esporranno l'elenco nelle loro attività in modo tale che il cliente può anche orientarsi e non creare difficoltà nell'utenza. Basta con questo teatrino e con le polemiche finalizzate soltanto a difendere ognuno la propria parte politica per il superamento degli ostacoli che continuano a bloccare il rilancio delle terme occorre lavorare tutti insieme mettendo da parte le appartenenze. E questa è l'opinione del consigliere di opposizione Giuseppe Miglioti che oggi interviene sulla vicenda termale al centro da alcuni giorni del dibattito politico. Per Miglioti la chiusura delle terme è il risultato del fallimento di tutta la politica. Smettiamola con le polemiche e con le accuse reciproche. Per il superamento degli ostacoli che continuano a bloccare il rilancio delle terme occorre lavorare tutti insieme mettendo da parte le appartenenze politiche a questo o a quell'altro schieramento. E' questa l'opinione del consigliere di opposizione Giuseppe Miglioti che oggi interviene sulla vicenda termale tornata da alcuni giorni al centro del dibattito politico. Un dibattito che Miglioti definisce triste e imbarazzante finalizzato esclusivamente a difendere ognuno la propria parte politica in vista delle imminenti elezioni. Ho sentito nel dibattito cittadino ognuno per parte politica difendere e portare acqua al proprio mulino. Ritengo che oggi l'obiettivo principale non sia quello di difendere le appartenenze politiche ma l'obiettivo principale oggi è quello di porre in essere tutti quegli atti che possano portare ad un affidamento definitivo del patrimonio termale per iniziare a porre in essere altrettanti atti che possano portare in un adivisor serio o con esperienza nel settore che possa rilanciare le nostre terme. Miglioti poi non esita a definire la chiusura delle terme decisa tre anni fa dal governo Crocetta il risultato del fallimento di tutta la politica a 360 gradi e non sarà certo il teatrino in atto serve il consigliere di opposizione ad alleggerire il peso delle responsabilità di ognuno. La chiusura delle terme è secondo me il fallimento di tutta la politica a 360 gradi e sicuramente i litigi che ci sono stati in questi giorni non aiutano nessuno a raggiungere l'obiettivo. Ho detto sempre che la politica su argomenti importanti e di grosse dimensioni come quella delle terme piuttosto che dell'ospedale la politica si deve unire si deve unire per raggiungere quello che è l'obiettivo principale. In ogni caso per Giuseppe Miglioti il sindaco Valenti avrebbe potuto fare di più. Mi meraviglia, osserve il consigliere comunale che oggi la maggioranza ritenga che l'attuale sindaco non debba fare alcuna autocritica quando invece l'allora sindaco Fabrizio Di Paola veniva criticato un giorno sì e l'altro pure dall'attuale maggioranza all'epoca opposizione per non avere messo in campo gesti eclatanti per le terme. Ascoltando il consigliere Di Paola ho notato che oggi in maniera molto conveniente dice che il sindaco non può fare autocritica beh, se non può fare autocritica il sindaco Valenti non si poteva attaccare il sindaco Fabrizio Di Paola che io essendo in maggioranza ho visto lavorare seriamente per cercare di arrivare all'apertura del nostro patrimonio termale. Miglioti conclude auspicando che il sindaco intraprenda un'azione forte, decisa e concreta che coinvolga non solo le forze politiche ma anche l'intera città. Occorre naturalmente che anche la regione siciliana faccia la propria parte per giungere nel più breve tempo possibile all'affidamento dell'intero patrimonio termale. C'è apprezzione tra le famiglie per il nuovo caso di meningite che si è verificato a Palermo e che ha ucciso un bambino di appena 14 mesi. Dopo la tragica scomparsa di Giuseppe, il bambino stroncato ieri a 14 mesi per una sepsi meningococcica fulminante, all'ospedale dei bambini di Palermo esplosa una vera e propria psicosi di mamma e papà preoccupati per un'eventuale epidemia di meningite. Sui social è stata addirittura divulgata la notizia falsa del nosocomio in quarantena. È assolutamente una bufala e per lo stesso motivo, dichiara l'epidemiologo dell'ASP Nicola Casuccio a Palermo Today, è stata consigliata la profilassia antibiotica solo per i parenti più stretti o per chi frequentava abitualmente casa loro. Le attività dell'ospedale procedono regolarmente e non c'è nessun pericolo di contagio. Giuseppe aveva iniziato a stare male già da lunedì scorso, costringendo i genitori a portarlo il giorno successivo all'ospedale. Nonostante le cure hanno spiegato i medici, le sue condizioni generali sono peggiorate rapidamente, tanto da richiedere un trattamento intensivo che ha reso necessario l'immediato trasferimento nel reparto di rianimazione pediatrica. In appena 12 ore la situazione è precipitata e il piccolo si è spento mercoledì mattina. Dopo l'accaduto è stato informato il Dipartimento di Epidemiologia dell'ASP che ha avviato gli accertamenti del caso e, come detto, disposto la profilassia antibiotica per i parenti più stretti che negli ultimi giorni erano entrati in contatto con il bimbo. Inoltre risulta che Giuseppe avesse ricevuto soltanto una delle tre dosi previste di vaccino esavalente, solitamente somministrate al terzo, quinto e undicesimo mese di vita, ma non quello per il meningococco di tipo B. Non è possibile però stabilire se il vaccino, spiegano dall'ospedale, avrebbe potuto evitare l'infezione fulminante che ha colpito il bambino. Tra 48 ore dunque si vota per le elezioni politiche e si vota solo domenica dalle 7 alle 23. Anche oggi un promemoria per evitare di sbagliare. Vediamo. Sono poche, ma tutto sommato chiare, le regole da seguire per evitare di commettere errori e vanificare il proprio voto domenica 4 marzo, giornata nella quale saremo chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento. Chi non ha ancora compiuto 25 anni si vedrà consegnare al seggio una sola scheda, quella per la Camera dei Deputati, di colore rosa. Tutti gli altri aventi diritto avranno invece anche la scheda per il Senato della Repubblica, di colore giallo. Eleggeremo i due terzi delle Camere col sistema uninominale, e il restante terzo col sistema plurinominale o proporzionale che dir si voglia. Sia per la Camera sia per il Senato, aprendo la scheda troveremo dei rettangoli con all'interno di ciascuno di essi, già indicati nella parte superiore, nome e cognome del candidato dell'uninominale e nella parte inferiore le liste con, accanto a ciascun simbolo di partito, nomi e cognomi più piccoli dei candidati al proporzionale di un listino bloccato. Significa che è sufficiente segnare esclusivamente il simbolo. Per esprimere il proprio voto è sufficiente fare un segno sul nome del candidato dell'uninominale prescelto e uno sulla lista o una delle liste collegate. È possibile tracciare un segno solo sul nome del candidato dell'uninominale. In tal caso, il voto si estenderà automaticamente alla lista collegata del proporzionale o, in caso di coalizione, alle liste in misura proporzionale al numero di voti accertati in fase di spoglio. È possibile anche tracciare un segno solo su una lista. In tal caso, il voto si estenderà automaticamente anche al candidato dell'uninominale. Non è ammesso il voto disgiunto. Non è possibile, infatti, votare per un candidato dell'uninominale e contemporaneamente per una lista che non sia collegata. In questo caso, non c'è volontà dell'elettore che tenga, la scheda viene annullata. Per evitare di sbagliare, il Consiglio è quello di tracciare solo un segno per ciascuna delle due schede. Sulla scheda ci sarà pure, per la prima volta, un tagliando antifrode. Non è vero, come qualcuno sta dicendo in giro, che questo non tutelerà la segretezza del voto perché il presidente di seggio toglierà questo tagliando dopo aver controllato che la scheda sia la stessa di quella consegnata all'ingresso della cabina, dopodiché la scheda finirà dentro l'urna. Questo sistema serve ad evitare che arrivino schede aggiuntive compilate fuori dalla cabina e che ne escano dal seggio. I seggi sono aperti domenica e solo domenica, 4 marzo 2018, dalle 7 alle 23. I primi exit poll arriveranno a seggi chiusi dopo le 23 e a seguire ci saranno le proiezioni. Alla chiusura delle urne partirà lo scrutinio, prima le schede del Senato e poi quelle della Camera dei Deputati. Domenica 4 marzo si voterà, dalle ore 7 alle ore 23, per eleggere la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Per la Camera potranno votare i cittadini italiani che avranno compiuto 18 anni, per il Senato quanti ne avranno compiuti 25. Ciascun elettore avrà una scheda elettorale rosa per la Camera e una gialla per il Senato. Ciascuna scheda, in un rettangolo, ha il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. Nella parte sottostante il rettangolo è presente il simbolo della lista o delle liste collegate al candidato uninominale, con a fianco l'elenco dei candidati nel collegio plurinominale. L'elettore potrà votare apponendo un segno sulla lista prescelta e il voto si estenderà anche al candidato uninominale collegato. Oppure potrà apporre un segno su un candidato uninominale e il voto si estenderà alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista. Il voto è valido anche se si appone il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una delle liste collegate. Non è invece possibile il voto disgiunto, cioè votare un candidato uninominale e una lista collegata a un altro candidato uninominale. Per votare è necessario recarsi al seggio con documento e tessera elettorale. Domenica 4 marzo. Elezioni politiche. Il tuo voto. La tua scelta. Scopri di più su interno.gov.it E in vista delle elezioni del 4 marzo, la Will di Agrigento lancia oggi un appello ai nuovi parlamentari nazionali agrigentini che saranno eletti, quello di non dimenticarsi della provincia alla quale appartengono. Vogliamo anche credere, scrive il segretario generale Geroacquisto, che i rappresentanti del popolo che siederanno a Roma nella prossima legislatura possono dare segnali positivi al territorio. Vediamo. Si avvicinano le elezioni nazionali del 4 marzo e puntuale arriva l'appello della Will ai parlamentari agrigentini che saranno eletti. L'invito è quello di non dimenticarsi del territorio dal quale provengono. Geroacquisto, segretario generale della Camera Sindacale Territoriale della Will di Agrigento, a nome di tutto il gruppo dirigente, chiede quindi ai nuovi parlamentari, al di là del colore politico di appartenenza, di puntare riflettori nazionali sulla crisi economica e sociale della provincia di Agrigento, che negli ultimi anni ha toccato l'acme della devastazione e desertificazione, con conseguenze disastrose. È inutile continuare a scrivere e denunciare all'opinione pubblica quello che non va. Sarebbe facile e stancante, ma noi vogliamo ancora credere, scrivono dalla Will, che la politica e i rappresentanti del popolo che siederanno a Roma nella prossima legislatura possono fare squadra e dare segnali finalmente positive al territorio. Qui, nella provincia di Agrigento, la fiducia nella politica e nei politici è bassissima. Questo è un dato che deve far riflettere tutti. Il dramma della disoccupazione, della mancanza di lavoro, di opportunità, di investimenti non può essere più tralasciato. Ci vuole impegno, efficienza, ma soprattutto amore per questo territorio. Il sindacato su azioni politiche e segnali di cambiamento non potrà che essere al fianco di parlamentari che opereranno su queste direzioni, continua Geracquisto. Vogliamo credere ancora che la politica e i politici hanno interessi e obiettivi per portare avanti i progetti e proposte di legge per far ripartire l'economia locale in tutti i modi, perché siamo veramente al baratro e nelle emergenze più diffuse. Qui mancano gli strumenti essenziali per poter vivere dignitosamente e nessuno può raccontarci diversamente le cose. Per questo, conclude la Will di Agrigento, incalzeremo subito i nuovi parlamentari per un dialogo costruttivo e finalizzato alla ripartenza di questa provincia. Nuovo discutibile intervento di Girgentiacco eseguito senza tenere conto della necessità di salvaguardare il patrimonio storico monumentale della città di Sciacca. La segnalazione corredata da foto arriva dal centro storico e precisamente dall'antico quartiere arabo vicino Porta Palermo, dove è stata demolita parte della base di un antico arco in pietra, già di per sé danneggiato in altre parti per la posa di alcuni tubi dell'acqua per alimentare una nuova utenza. Ci si domanda chiaramente come sarà possibile porre rimedio a tutto ciò dopo la demolizione di parte del manufatto in pietra e come sia possibile che vengano autorizzati lavori di questo tipo. Nelle settimane scorse a destare Scalpore era stato un altro intervento di Girgentiacque, nello specifico la collocazione di contatori idrici su muri ed edifici storici in via Giuseppelicata, un episodio che, come si ricorderà, aveva suscitato la reazione della sezione Saccenze d'Italia Nostra. Adesso un altro discutibile intervento ad opera della società che gestisce il servizio idrico. Oggi protesta Trapani da parte del Comitato per la salvaguardia dell'aeroporto Vincenzo Florio. Sono 800 i posti di lavoro qui a rischio dopo la decisione di Ryanair di ritirarsi per mancanza di provvidenze economiche da parte della Regione. Una indisponibilità a quelle dei voli su Trapani che rischia di danneggiare pesantemente l'economia turistica, dice il nostro telegiornale Francesco Piccarella di Federalberghi di Agrigento. Sentiamo. Potrebbe essere solo un arrivederci, quello dei Ryanair, dunque all'aeroporto Trapani-Birgi. Ma si sa che quando si prendono decisioni del genere poi tornare indietro rischia di essere difficile. Fatto sta che la compagnia low cost irlandese ha deciso di lasciare la base di Trapani e per la prossima estate assicurerà appena quattro rotte. L'annuncio appare sul sito della stessa compagnia. Decisione quella di Ryanair scaturita dall'annullamento del bando di gara per la promozione delle rotte decisa da Airgest, l'ente gestore dell'aeroporto di proprietà della Regione Siciliana. In soldoni questa scelta si traduce con la perdita di 18 rotte tra nazionali e internazionali per oltre un milione di passeggeri l'anno e più di 800 posti di lavoro che adesso rischiano di essere perduti. Rimangono appena quattro le rotte confermate, due per le città tedesche di Baden-Baden e Francoforte, una per la capitale cieca, Praga e l'ultima per Bergamo, Orio al Serio. L'annullamento del bando per la promozione delle rotte significa niente soldi pubblici per la compagnia comporterà lo spostamento altrove dell'investimento da 300 milioni di dollari che Ryanair aveva programmato nell'acquisto di nuovi aeromobili. Si confida che ci sia un ripensamento da parte dell'aeroporto di Trapani ma ormai per la stagione estiva 2018 non si potrà più tornare indietro tutto è legato al ricorso di Alitalia contro l'ultimo bando di promozione delle rotte che Ryanair si era giudicato ricorso accolto dal TAR che ha bloccato dunque le provvidenze pubbliche previste. Alergest confida in un ripensamento di Ryanair ma al tempo stesso il presidente Paolo Angius di fresca nomina da parte del governo musumeci ha già fatto sapere che si lavorerà in favore di un incremento dei voli charter per salvare la stagione estiva e perché no anche per individuare un vettore diverso dalla compagnia irlandese. Ma per il turismo delle nostre zone si rischiano comunque gravi conseguenze derivanti dall'addio di Ryanair a Trapani come conferma Francesco Piccarella presidente di Federalberghi di Agrigento Sicuramente avremo problemi per il semplice fatto che essendo Ryanair l'unico vettore che viaggiava per Trapani adesso naturalmente lo scalo di Trapani subisce un pettante tracollo dal punto di vista di arrivo passeggeri e altro quindi inevitabilmente il territorio ne subisce una conseguenza non indifferente. Per la crisi che si è venuta a creare il governatore musumeci ha accusato il suo predecessore Rosario Crocetta il cui esecutivo a suo dire avrebbe pubblicato un bando quello poi impugnato dall'Italia troppo superficiale scelta quella di Ryanair definita poi capricciosa e ingenerosa la manifestazione di protesta di oggi organizzata dal Comitato per la Salvaguardia e il monitoraggio dell'aeroporto Vincenzo Florio a sostenere la compagnia aerea sono stati negli anni anche gli stessi comuni non tutti l'hanno fatto e il presidente di Federalberghi di Agrigento è piuttosto critico anche su questo ma lì il problema è la mancanza di sinergia che c'è stata tra la stessa Ryanair e i comuni del territorio che non hanno fatto quella cosa comunque si sono lavati le mani sul tema abbiamo chiesto un commento all'assessore al turismo del comune di Sciacca Filippo Bellanca guardi secondo me è un danno enorme perché l'aeroporto di Trapani Birgi era un aeroporto molto utilizzato per questo versante del territorio ho letto queste ultime vicende Ryanair ha mollato per il 2018 e si apriva uno spiraglio per il 2019 diciamo che fortunatamente in parte sono stati incrementati voli su Palermo Punta Raisi che consentono di avere un minimo di collegamento in più ma l'ospicio che la regione siciliana che ormai è quasi alle quote diciamo di tutto l'aeroporto di Trapani possa trovare delle soluzioni per una ripresa anche in questa stagione non certamente con una postazione come aveva Ryanair fino adesso ma magari iniziare ad avere altri tour operator altre compagnie diciamo aeree che possano puntare su Trapani Birgi E l'assessore al turismo Filippo Bellanca torna a lanciare l'iniziativa della fondazione Carnevale dopo il tentativo fatto negli anni passati quando ricopriva il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca è ormai fondamentale annuncia il nostro telegiornale creare un organismo che si occupi tutto l'anno dell'organizzazione della manifestazione che peraltro è stata recentemente inserita nel nuovo registro delle eredità immateriali della Sicilia l'ospicio a tal proposito è che la regione vada oltre il riconoscimento tornando a sostenere economicamente il Carnevale di Sciacca si lavora inoltre al Carnevale estivo il punto in questo servizio Ci avevo approvato da Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca adesso da Assessore al turismo Filippo Bellanca torna sulla fondazione Carnevale e annuncia oggi al nostro telegiornale di aver avviato l'iter per la costituzione dell'organismo Giorni fa ho messo in moto il meccanismo per la istituzione della fondazione Carnevale che è una cosa che da anni dico di poter realizzare ma è stata sempre ostacolata prima da fatti politici locali poi successivamente da una norma nazionale che vietava gli enti locali la realizzazione della istituzione delle fondazioni adesso pare che c'è uno spiraglio normativo quindi ho avviato le procedure vediamo gli uffici cosa risponderanno I tempi possono essere maturi anche nella nostra città per arrivare finalmente a questa ipotesi di fondazione ente, questo organismo che si occupi costantemente di Carnevale? Esatto, questo è il mio auspicio perché ritengo che ma non lo dico io perché è una mia idea ma tutti i carnevali diciamo più importanti d'Italia hanno una fondazione in Sicilia noi abbiamo il Carnevale di Cereale che è gestito da una fondazione Viareggio gestito da una fondazione Ibrea gestito da fondazione e quello che ha detto lei avere un'istituzione sganciata da quello che è l'ente locale per lavorare tutto l'anno sul Carnevale perché a maggior ragione oggi con questi riconoscimenti importanti avuti dal nostro Carnevale può diventare un serio volano di rilancio del territorio Non solo la fondazione chiusa l'edizione invernale c'è adesso da organizzare il Carnevale estivo Già ci siamo messi al lavoro vediamo come si può mettere in piedi abbiamo parlato di un'ipotesi diciamo luglio come ipotesi di calendario adesso dobbiamo fare un incontro con le associazioni per formalizzare questa partecipazione e vediamo poi le modalità come saranno fatte Intanto come abbiamo evidenziato ieri il Carnevale di Sciacca è stato inserito nel nuovo registro delle eredità immateriali della Sicilia iniziativa questa che era stata avviata dalla precedente amministrazione che rappresenta un ulteriore riconoscimento dell'importanza della manifestazione l'auspicio dell'assessore Bellanca è che la regione vada oltre e torni a supportare economicamente il Carnevale di Sciacca è un riconoscimento che segue un recepimento di una convenzione dell'UNESCO quindi diciamo è un patrimonio della nostra eredità della nostra cultura della nostra storia è ovvio che questo dopo quello che è successo già nello scorso anno con l'inserimento nei Carnevali d'Italia nei Carnevali storici d'Italia del Carnevale di Sciacca e quest'ulteriore riconoscimento adesso ci aspettiamo che le istituzioni inseriscano il Carnevale come una reale promozione un rilancio di un territorio quindi speriamo che nei prossimi bandi che ci saranno ci possono essere delle opportunità per il Carnevale di Sciacca il Comune di Sciacca capofila del distretto sociosanitario a G7 è messo un avviso per l'assistenza in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare dando attuazione alla legge nota come dopo di noi la legge definisce specifici strumenti giuridici per garantire un'effettiva continuità nel percorso di vita delle persone con le disabilità gravi anche successivamente al venire meno delle figure genitoriali o familiari per l'ottenimento dei benefici gli interessati debbono presentare domanda con allegati documenti richiesti al proprio Comune di Residenza entro il 9 marzo prossimo utilizzando un apposito modello reperibile presso i siti internet istituzionali o gli uffici servizi sociali è stato sottoscritto l'accordo di programma del distretto sociosanitario di cui è capofile il Comune di Ribera per l'integrazione economica del piano di zona il finanziamento ottenuto al Comune Crespino di 400 mila euro somma che sarà destinata ai servizi sociosanitari e in particolare alle attività rivolte ai diversamente abili alle famiglie economicamente disagiate una campagna di riforma costituzionale difesa della salute è stata lanciata pochi giorni fa da cittadinanza attiva una proposta di modifica dell'articolo 117 volta alla riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario una campagna nazionale a cui si può partecipare sui social postando una foto ed aggiungendo l'hashtag di fondi la salute sentiamo la salute è uguale per tutti è il titolo della nuova campagna di riforma costituzionale promossa da cittadinanza attiva con il supporto di oltre 50 realtà fra organizzazioni civiche associazioni mediche di pazienti e di numerosi testimoni al demondo istituzionale dell'impresa della cultura dei mass media una integrazione all'articolo 117 della costituzione è la soluzione avanzata per contribuire alla riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario attraverso l'aggiunta tutela della salute nel rispetto del diritto dell'individuo e in coerenza con il principio di sussidarietà la proposta è sostenuta dalla campagna social di fondi la salute partita pochi giorni fa con la quale si chiede a tutti i cittadini di attivarsi a sostegno della tutela del diritto alla salute basta aggiungere l'hashtag ad un selfie scattato mentre si manda un bacio perché l'idea è appunto quella di diffondere la salute come un bacio e postarla sui social sul sito www.diffondilasalute.it è possibile trovare anche i video di diversi testimonial a 70 anni dall'entrata in vigore della costituzione la sfida è quella di darle sostanza a partire dalla riduzione delle disuguaglianze tenendo conto della natura di un paese che ha ancora forti asimmetrie sociali e territoriali commenta il costituzionalista Francesco Clementi tra i fautori della campagna bisogna allora fare di queste diversità virtù continua Clementi inforcando con coraggio gli occhiali della sussidiarietà per dare alla salute dei cittadini quella tutela che meritano ovunque essi vivano dai rapporti annuali di cittadinanza attiva tribunale per i diritti del malato del 2017 emergono dati evidenti sulle disuguaglianze in sanità ad esempio per l'arrivo dei mezzi di soccorso in media in Italia si attende da un minimo di 13 minuti a un massimo di 27 minuti i centri diurni per la salute mentale variano dai 3 del Molise ai 69 della Toscana quelli per l'autismo dai 6 di Puglia e Dumbria ai 309 del Veneto 789 le residenze sanitarie assistenziali presenti in Veneto circa 32 quelle nelle altre regioni il 100% dei cittadini del nord riesce ad accedere entro un mese alla radio e alla chemioterapia così non si può dire nel resto d'Italia dove la percentuale scende all'86% dei pazienti al sud e all'84% per quelli che risiedono al centro ancora il 31% dei cittadini che si rivolgono al Tribunale per i diritti del malato dichiara di avere problemi di accesso alle prestazioni sanitarie in particolare 1 su 7 difficoltà con l'assistenza sul proprio territorio 1 su 12 con l'assistenza ospedaliera con la campagna appena lanciata si vuole così lottare le disuguaglianze in campo sanitario che si verificano quotidianamente non solo nel meridione ma in tutto lo stivale adesso lo spazio ai consigli della libreria Mondadori il buio spazzato dai fanali la neve che vortica i tronchi immobili mentre l'auto sbanda e precipita nel vuoto uno schianto violento poteva essere morta Marlène incinta e in fuga dal marito capo di una banda di criminali del sud Tirolo cui lei ha sottratto un sacchetto di zaffiri ben più preziosi di quanto immagina invece miracolosamente un uomo l'ha trovata è portata in salvo nel suo maso fra le montagne per prendersi cura di lei un uomo che si chiama Simon Keller e vive solo in compagnia dei suoi fantasmi mentre un killer l'uomo di fiducia è già sulle sue tracce la donna si è ripresa ed entra in contatto con l'inquietante mondo di Keller popolato solo da Lissi e dai suoi ragazzi una mostruosa scrofa dalle enormi zanne e i maiali che le stanno attorno e se Marlene fosse scappata da un criminale solo per finire fra le braccia di un mostro ben peggiore lasciate che Lissi turbi il vostro sonno con atmosfere agghiaccianti degne del grande Stephen King Lissi di Luca D'Andrea edito e in Audi Siamo allo sport calcio danza sportiva e podismo nella rubrica odierna dedicata allo sport nel campionato regionale federale di danza sportiva diversi gli atleti di Shaq e Ribera premiati a Catania nell'ambito della federazione riconosciuta dal CONI Sentiamo Importante riunione tecnica questa sera per gli arbitri della sezione provinciale di De Grigento che avranno modo di confrontarsi con Antonio Danilo Giannoccaro ex arbitro e attualmente designatore arbitrale della Can Pro durante l'incontro si farà il punto della situazione relativamente alle nuove norme regolamentari con Giannoccaro protagonista di consigli e aneddoti da raccontare ai giovani colleghi facenti parte dell'organico AIA da Grigento come si ricorderà Giannoccaro ha diretto 101 partite in serie A è stato eletto più volte miglior arbitro dell'anno ha terminato la propria carriera nel 2013 e da tre anni è designatore arbitrale della Can Pro ottimi risultati nel campionato regionale federale di danza sportiva per l'Accademia Royal Latin American School che riunisce appassionati di Ribera Sciacca Canicattì e Cianciana la competizione si è svolta nei giorni scorsi a Catania a guidare i ballerini i tecnici federali Ferdinando Marchese e Clara Brunetti più di 600 le coppie partecipanti provenienti da tutta la Sicilia il sodalizio ha ottenuto tre primi posti due secondi due terzi due quarti e due sesti classificati per le danze in coppia premiati Giovanna Miceli con Kevin Tortorici Rosa Balzano con Giuseppe Sabella Lucrezia Tavormina con Gabriele Mirabile Anita Parla con Viaggio Ciliberto Fanny Guddemi e Andrea Marchese Sara Cocuzzella e Giuseppe Piraneo tutto pronto infine per la mezza maratona della Concordia che si svolgerà domenica ad Agrigento con al via numerosi atleti di Sciacca oltre mille gli iscritti alla gara che passerà anche dalla Val delle Templi la manifestazione aprirà il diciassettesimo Grand Prix regionale di maratonine Federazione FIDAL la categoria più rappresentata è la SM50 con 205 atleti al via oltre agli italiani ci saranno podisti provenienti da Canada Venezuela USA ed Eritrea 206 gli atleti grigentini mentre la provincia più rappresentata è quella di Palermo partenza dal viale Falcone Borsellino di San Leone è tutto siamo in chiusura grazie per averci seguito fino a qui e per aver scelto la nostra informazione appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti Grazie a tutti.